Il mondo intorno a te parla, ascoltalo, fallo con gli appariti acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Altro fine settimana da incorniciare per il Camuno Mario Nani che nella serata di sabato 21 maggio a Jesolo in occasione dei campionati italiani assoluti di kickboxing organizzati dalla FederCombat ha conquistato il suo quattordicesimo titolo tricolore in carriera. Un risultato quello ottenuto nella categoria full contact da 75 kg che proietta il fighter di Cerveno nuovamente in nazionale maglia azzurra che rappresenterà in occasione degli europei che si disputeranno in Turchia nel mese di novembre. Sì è andata bene, ho vinto, sono diventato campione italiano per la quattordicesima volta e grazie a questo traguardo vestirò la maglia azzurra per i campionati europei che si faranno in Turchia a novembre. Il match è stato un buon match, sono riuscito a impostare il mio ritmo fin da subito, avevo un avversario di fronte giovane ma molto determinato che teneva un ritmo molto alto ma comunque diciamo che la differenza di esperienza mi ha fatto valere, quindi sono riuscito a portare a casa bene questa medaglia. La manifestazione è molto importante, la kickboxing sta crescendo ogni anno sempre di più e a queste gare, adesso i campionati italiani, ci sono state davvero tante persone di tutta Italia, il livello si alza ogni anno quindi ogni anno bisogna essere sempre più preparati per riuscire ad andare avanti. Medaglia per Turbo Mario ma non solo ottimi risultati, anche per gli altri portacolori del team Vallecamonica kickboxing guidati da coach Lionello Pedersoli. Allora per il team Vallecamonica è andata bene, eravamo presenti con Mattia Spedicato che ha vinto la categoria dei 79 kg nella Coppa Italia e con Giulia Baffelli che ha vinto anche lei la sua categoria. Eravamo presenti anche con un altro ragazzo, Lorenzo Pendoli, che è un ragazzo giovane, molto bravo ma che ha perso il suo match e ha portato a casa sicuramente un sacco di esperienza. In estate è il periodo off-season quindi la preparazione atletica cambierà, rimarremo sempre in allenamento ma ovviamente ci saranno stimoli diversi e in più sarò presente a luglio in Grecia come istruttore all'interno di un camp di allenamento internazionale quindi troverò atleti da tutta Europa in cui avrò l'onore appunto da insegnare e passare la mia esperienza.